Mi piace molto amici telespettatori uno slogan nato probabilmente nella ricerca di una frase coinvolgente che vi voglio dire, dedicato in particolare alle case della Tomasi Case per le quali siamo qui a parlare per tre minuti. La vacanza come investimento. La vacanza come investimento dove? Ad Eraclea. Perché ad Eraclea? Ad Eraclea perché appunto per me è un gran bellido. C'è una grande pineta, c'è una bella spiaggia, c'è tanta gente, ci sono tanti divertimenti, è un bel centro, è molto popolare. Poi la gente del Veneto lo conoscono meglio di me, io lo frequento un po' meno perché io sono emiliano, però mi è piaciuto subito, mi è piaciuto subito, tant'è vero, non per niente ho costruito tante case e ci vivrei anch'io, lì prenderei la residenza se potessi perché c'è tranquillità in tutti i sensi ed è bello il Lido. E così abbiamo costruito queste case, questi appartamenti e anche dei negozi già pronti e consegni proprio sul lungomare del Lido di Eraclea. Poi stiamo costruendo, che in questi giorni stiamo ultimando, dei bellissimi appartamenti a partire da 130 mila euro. Poi abbiamo ville finite e in costruzione che giustamente senza nessun impegno veniteci a trovare, venite a vedere con mano, a toccare con mano, queste belle case sono molto vicine dalla spiaggia, non c'è nessun obbligo, non c'è nessun impegno. Se vi piace la casa domani ve la consegniamo domani, perché giustamente deve piacere ancora di più domani, non solo oggi. E questo fa molto piacere, così come l'hanno fatto centinaia e centinaia di famiglie, noi siamo qui appunto con tranquillità, non ci sono ipoteche sulle nostre case, questo ve lo posso garantire io che sono 40 anni che faccio questo ed è per questo che io sono qui. E veniteci a trovare perché la Tomasi Casa è orgogliosa di presentare le sue ville, ha tante soluzioni in base proprio alle vostre esigenze, potrete scegliere la casa che fa per voi, potrete godervi la propria casa, la vostra casa con un bel terrazzo, magari con un giardino, il verde davvero molto curato, quindi potrete fare davvero una bella cosa con i vostri cari, con le vostre famiglie, i vostri amici, quindi ai Lidi vi aspettiamo con la Tomasi Casa. E le parole di Lugliana mi fanno venire in mente una bella frase, c'è qualcuno che scrive anche meglio di me. I bambini che giocano nel giardino fiorito, il cucciolo che scodinzola, l'odore della brezza marina dal tuo terrazzo, il profumo della grigliata sul barbecue e con te sempre Tomasi Casa. Grazie, arrivederci. Alla prossima, ciao! Grazie a tutti.